Con Oscar Altamura ormai manca davvero poco, sono i giorni decisivi per la scelta, prima dell'elezione di domenica 5 giugno, la piazza stasera cosa ti ha detto? Cosa mi ha detto la piazza? La piazza mi ha detto che c'è bisogno di partecipazione, cosa vuol dire ciò? Ciò per noi vuol dire che andremo lì fino alla fine, ci impegneremo per entrare in quel palazzo, ma dopo il 5 giugno non spariremo e continueremo ad essere sul territorio come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché per noi la partecipazione non è solo una parola con cui farsi belli, ma è una parola importante, fondamentale per noi, perché è proprio la mancanza di questo elemento della vita politica che ha portato secondo noi a tanti scempi, perché il politico che non è controllato è libero di fare ciò che più gli aggrada. Dunque è arrivato il momento di riprendersi quella che è la politica grazie all'impegno in prima persona dei cittadini che entrano nelle istituzioni. La presenza di D'Ambresi qui dimostra la possibilità di avere un ponte per Ruvo, non soltanto nella regione, ma è una visione abbastanza ampia ed è questa la testimonianza più concreta. Esatto, perché votando Movimento 5 Stelle, votando Oscar Altamura, in realtà si vota una squadra, si votano una serie di eletti nelle istituzioni. Io ci metto la faccia, ci metto la firma, ma non ci metto di certo le competenze. È finita l'era dei tutologi, c'è bisogno di trovare le competenze dove veramente risiedono. Dunque in assessori individuati grazie a bandi comunali, in eletti nelle istituzioni come la regione, il Parlamento nazionale o anche quello europeo. In questo modo dunque grazie a una collaborazione e grazie alla condivisione delle idee, delle buone pratiche, delle carte e di tutto ciò che può servire, un'amministrazione può evitare di essere isolata dal resto del mondo, ma diventa un'amministrazione per così dire, con tutte le potenzialità per davvero cambiare e crescere. La sua presenza qui è una bella testimonianza, soprattutto amate le sfide, le grandi sfide, questa qui è abbastanza stimolante. Con Oscar Altamura tra i candidati alla carica di sindaco, tra i più giovani in Italia. Sì, il Movimento 5 Stelle nasce come una sfida di cittadinanza attiva nei confronti della politica vecchia. Sinceramente oggi essere presenti qui, tra parentesi, con a due passi, l'europarlamentare gentile che è in qualche modo a sponsorizzare il suo candidato del PD, che non abita nemmeno a Ruvo, che non è nemmeno di Ruvo, testimonia proprio la distanza e la lontananza della politica da quelle che sono le esigenze dei cittadini. Noi abbiamo deciso, il gruppo di Ruvo ha deciso di candidare Oscar, che indipendentemente dalla sua gioventù, so che alcuni lo attaccano proprio per questo, per la sua giovane età. Per noi è un valore aggiunto, anche perché la mia presenza qui è la presenza del Movimento 5 Stelle. Oscar non sarà solo. Oscar avrà un collegamento a Roma, Oscar avrà un collegamento a Bari, Oscar avrà le squadre dei consiglieri comunali che abbiamo già in Puglia, Oscar avrà un collegamento in Europarlamento, non per fare le marchette elettorali, ma per avere collegamenti con i fondi regionali ai quali Ruvo può accedere. Io mi chiedevo una cosa adesso girando, questo bellissimo centro storico, di fatti abbandonato, non è accettabile una cosa del genere, non è accettabile far perdere alle nostre città la propria essenza, non puntando sulla microimprenditorialità, su quelli che sono le aziende piccole. Ruvo è proprio questo, è una realtà che non ha grandi aziende, ma ha piccole aziende che devono essere valorizzate. Posso chiederle un appello al voto ai ruvesi per Oscar d'Altamura? Ma io l'appello che rivolgo ai ruvesi, più che verso il Movimento 5 Stelle, è verso se stessi. Se i ruvesi ritengono che qualsiasi degli altri sette candidati sindaco sia a posto così, perché tanto è espressione del passato e quindi Ruvo va bene così come è, possono tranquillamente metterli su una ruota della fortuna, girare, votare qualunque di essi, tanto sono tutti uguali. Se invece ritengono di voler provare veramente uno scenario diverso, una possibilità diversa, un mondo diverso direi quasi, mi spingo a dire questo, il Movimento 5 Stelle è a disposizione dei cittadini. Che sia chiaro, il Movimento 5 Stelle però non chiede il voto, ma chiede la partecipazione. Quindi nel momento in cui un cittadino mette la croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle, sappia che verrà continuamente interpellato. Quando Oscar avrà dei fondi regionali a disposizione per fare un'opera, chiederà ai cittadini qual è l'opera da fare. È un'impostazione completamente diversa. La partecipazione è il portare i cittadini all'interno. Noi l'abbiamo dimostrato a Roma l'altro giorno, avviando il progetto di Lex Iscritti. Un iscritto su un sito internet può darci una proposta di legge da presentare in Parlamento. Un cittadino di Ruvo, con Oscar il Movimento 5 Stelle, sarà all'interno del Comune sempre.